è arrivata la suppostina no ormai ormai vale tutto non ci sono più regole ormai vale tutto ormai vale tutto è arrivata la suppostina far vestire la maglia ad acerbi è una delle cose più vergognose che abbia visto fare all'inter negli ultimi 35 40 anni questo è il mio pensiero poi ognuno è giusto e la pensi a modo suo le patenti di interismo io le faccio dare a quegli altri a me non mi piace dare le patenti di interismo questo è il mio pensiero ed è giusto comunque io lo esterno far vestire la maglia dell'inter ad acerbi è una delle cose più vergognose che abbia visto negli ultimi 35 anni ma fai anche 40 infatti fa le visite ha fatto le visite passano chissà come mai passano dall'uscita secondaria chissà come mai forse non erano tutti applausi forse c'era anche qualche battutina allora per quanto riguarda questa proprietà fantasma normale questi non hanno mai capito nulla dell'inter cos'è l'inter cos'è l'interismo non hanno capito come ragionano i tifosi dell'inter però ora alzo il tiro io vi dico una cosa forte l'allenatore l'allenatore nemmeno l'allenatore ha capito come inzaghi cioè facendosi prendere acerbi perché io posso capire no cioè che ne so c'è vlaovic al milan e te compri vlaovic dal milan a 22 23 anni e lo paghi 80 milioni lo posso capire ma acerbi un giocatore di 34 anni che ha saltato tutta la preparazione che povero ragazzo non urla contro di lui ma non poteva uscire nemmeno di casa tra un po' togli l'ennesimo problema alla Lazio e dopo Caicedo non ti è bastata Caicedo fai ancora all-in con acerbi quindi gli ultimi tre acquisti dalla Lazio a parte Correa che non lo conto nemmeno sono Caicedo, Kolarov e acerbi per quanto riguarda te caro Inzaghino io penso che questo per te sarà l'anno della verità o dentro o fuori non ci saranno mezze misure cioè capito ti misureranno o bene o male e non gliene fregherà nessuno se ti mancano due difensori se gli manca un attaccante se riesce a vincere qualcosa bene altrimenti per come la vedi io ti faranno andare via però fatti prendere acerbi ti sei messo addosso tanta di quella pressione Inzaghi con acerbi e te non te ne rendi nemmeno conto io se fossi stato in te me la sarei risparmiata avrei messo Fontana Rosa più volentieri perché te putacaso che acerbi in una delle tante partite ci saranno quest'anno sostituisce uno dei tre centrali e fa una cappellata e ci fa perdere una partita verranno da te Inzaghi verranno da te non gliene frega nulla la gente se non c'erano soldi se questo non può più mettere soldi i debiti non gliene frega nulla daranno tutte le colpe a te quindi è arrivata la suppostina che te l'hanno fatta ingirare poi te l'hanno nascosta poi te l'hanno ritirata fuori è arrivata la suppostina papapam eccoci qua non ho mai visto così tanto sdegno i tifosi dell'Inter veramente era una vita che non vedevo nemmeno ai tempi di Toir tra un po' vedevo tutto questo sdegno non so cosa dire magari fallo giocare anche contro i Milan già chi ci sei se Bastoni non sta bene tanto non ha fatto nemmeno la preparazione mettilo a titolare contro i Milan Izaghi mettilo a titolare contro i Milan dai magari davvero si piglia golla almeno ci fa anche un'altra rizzatina non me ne frega nulla se sono discorsi da bar io la penso così a me di dare le patente di interismo non me ne frega nulla questo è il mio pensiero per me Acerbi all'Inter è una vergogna lo dico da due settimane e lo confermo Acerbi all'Inter è una vergogna ciao Inter è una vergogna